Altro video, altra corsa. Le associazioni della nostra vita sono molto importanti. Sono quelle che ti portano su o quelle che ti butteranno a terra. La Bibbia dice I Correnzi 15, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Devi cercare di associarti con persone, devi cercare di stare vicino a persone che non sono come te ma migliori di te, dove tu puoi salire nelle loro spalle per avvalerti della loro spiritualità, della loro unzione, della loro benedizione. Per cui l'Apostolo Paolo disse una cosa molto bella in Galati 2.20. Disse, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data Giacomo, Cefa, Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Paolo dice, Barnaba, Cefa, Pietro, Giovanni, che erano reputati colonne, dice, ci hanno dato la mano di associazione. Associazione, c'è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma c'è anche un'associazione dove tu ricevi benedizioni. Qualcuno disse, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, ed è la verità. Oppure la Bibbia dice, nel libro dei proverbi, la Bibbia dice che chi va con i saggi diventa saggio. Dov'è questa scrittura? Proverbi 13, verso 20, chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli storti diventa malvagio. Quindi, chi va con i saggi diventa saggio. Cioè, tu entri in un'unzione di associazione, lo chiamava il mio mentor Eccine Tegra, c'è un'unzione per associazione, cioè in base con chi vai, in base alle persone che ti associ, stai, tu ricevi la stessa unzione, l'unzione per associazione. Quindi, stai attento con chi ti associa. Cerca di scegliere persone che ti elevano, non persone che ti portano giù. Non associarti con gli sfigati, con gente che non ha fede. Non associarti con gente che non ha esperienze con le cose di Dio. Cerca di associarti con persone che ti danno una unzione, goccia dopo goccia, una rivelazione. E questo poi lo vedrai perché ci sarà nella tua vita elevazione. Per cui, stai attento alle associazioni sbagliate. Le cattive compagnie. Dov'è questa scrittura? Compagnie. Cattive, vediamo, mi sembra che si trovi in primo corinzi 15. Sì, 15, 33. Primo corinzi 15, 33. Ditolo 33. 33. Se il medico dice, ditolo 33. Vediamo se state bene. 15, 33 dice, dice... Dov'è, l'ho perso. Primo corinzi 15, 33. Non vi ingannate. A volte tutti incanni. Il diavolo mi ha incannato. No, tutti incanni. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Devi sapere se quella compagnia è degna di una mano di associazione. Perché se non è degna di associazione vera, c'è un'associazione a delinquere, di stambo spirituale che vuole distruggere la tua vita. Le persone che entrono nella tua vita, devi stare attento se devi dare una mano di associazione. Devi informarti chi è quella persona a cui tu ti associ. Devi saperlo. Perché c'è un'unzione per associazione. Le persone che tu ti associ, tu ricevi da loro un'influenza che può essere di origine divina, può essere di origine demoniaca. Ecco perché le cattive compagnie, primo corinzi 15, 33, corrompono, distruggono i buoni costumi, le persone buone, le persone vere, le persone che erano da Dio. Goccia dopo goccia ti danno la loro insinuazione. Se sono cattive associazioni, cattive influenze. Una volta dice la Bibbia che Saul, che non era una grandissima bella persona, c'era un gruppo di profeti. Lui entrò in quel gruppo di profeti e lui iniziò a profetizzare. Ma non iniziò a profetizzare perché era un profeta, ma perché entrò in un'aura spirituale, in una influenza, in una nuvola spirituale di profeti. Quindi l'hanno migliorato per quell'istante, poi magari si è andato per i cavoli popi e quell'associazione si è diluita, si è andata perché non c'erano più i profeti. Quindi le persone con cui ti associi tu ricevi una certa unzione. Può essere bella, può essere brutta. Ecco perché stai attento a chi dai la tua mano di associazione. Associati con persone vere, con persone unte da Dio, con persone che ti possono ispirare piuttosto che aspirare. Persone che possano aggiungere alla tua vita qualità, benessere, rivelazione, unzione, trasformazione. Prego che Dio ti dia un'unzione particolare per capire, ecco come disse qualcuno, per riconoscere un saggio. Per riconoscere un saggio ci vuole un altro saggio. Quindi questo è importante che questo giorno devi sapere che il tuo futuro, la tua benedizione, determinerà, dipenderà dalle persone a cui tu dai la mano di associazione. Grazie a Dio, anni fa, quando ho conosciuto il mio mentor, che ora è col Signore, Kenneth Egan, ho letto i suoi libri, ho divorato i suoi libri, ho permesso questa mano di associazione, ho permesso che l'assunzione entrasse in me. E questo ha cambiato la mia vita, la mia mentalità. Ed ora mi ritrovo con diverse benedizioni, grazie a questa mano di associazione che ho dato a questo uomo di Dio. o a poi altri uomini di Dio che Dio mi ha presentato durante il mio cammino. Per cui stai attento che c'è un'unzione per associazione. Tu ricevi unzione in base alle persone che tu ti unisci, che tu permetti che queste influenze vengano nella tua vita. Che Dio ti dia saggezza e sapienza per questo altro video. Dio ti benedica.